Ho iniziato a fare dialisi quando avevo 19 anni, l'ho fatta per sette anni, poi è arrivata la chiamata e adesso di nuovo. Si può dire che ho fatto dialisi la metà della mia vita. Il più grande calvario, o posso dire l'inferno, è di non poter bere quando si ha sete. Immaginate, voi avete sete, prendete l'acqua o una bottiglietta a mezzo e bevete. E noi non possiamo. È un calvario. Il fiume, un po' di uccelli, che silenzio. Mi prendo le energie, mi prendo forza. E si può dire, per i sportivi, si fa cool down. Dopo la fatica, pedale leggero e questo è il cool down. Per me andare a rulli non è così noioso perché vedo tutto il percorso sul computer. Per me i rulli sono molto importanti. Prima, mantenermi in forma. Secondo, quello più importante, sudare. L'unico modo per buttare fuori i liquidi. Pedalando ho perso circa mezzo litro e per fortuna adesso posso bere un po'. Questo si chiama Wetterkreuz. Si può dire croce che ci protegge dal maltempo. È importante perché ci protegge non solo dal maltempo, ma di tutto il male. Nel Transplant Sport Club sono entrato nel 2006 dopo il mio primo trapianto. In questa associazione ho trovato dei carissimi amici, una specie di famiglia. L'abbiamo girato quasi tutta Europa. Prendo tanta forza e energia dalla mia famiglia, dai miei genitori, la mia sorella, soprattutto della piccola nipotina Eva. È una gioia vederla crescere, imparare nuove cose, vederla come ride, come parla. Il momento più brutto era quando Arnold era in terapia intensiva con tutti i macchinari e i dottori ci hanno riuniti. Mi hanno detto che adesso serve solo un miracolo e da lì tutto il mondo è crollato. Ho sentito dentro di me una forza molto, molto grande e ho detto ai genitori e lui ce la farà, ce la farà. Se non avete paura, ce la farà. L'ospedale è la seconda casa di Arnold perché i dottori e le infermiere sono tutti bravi. Spero tanto che faccia il trapianto. e le infermiere sono tutti bravi. Grazie per la visione